Sorriso per la polizia! Ma io veramente vorrei dirvi una cosa, facciamola questa mortale, io ho una proposta, l'ho detto prima, ci facciamo dare un po' di storia, ci prendiamo un bilocale ad Alassio, ma io non lo so, voi fate la storia! Non vogliamo mai noi! Capitano dei Carabinieri mi ha detto non oltrepassi una cosa, non c'è, non c'è, non c'è più, mi ha detto c'è una roba che se oltrepassa lei è fuori lei! Ma sono tutti gentili, ma no, uno è andato in galera perché non ha pagato 134 euro a Trento, doveva rubarne un po' di più! Ma comunque come va? Com'è allora la situazione? Guarda, la situazione è drammatica ma non è seria! È drammatica ma non è seria! Noi abbiamo fatto lì il presidietto così per poterci stare bene dentro! E di chi è questo? Tirata su di sono a pianto da Alicieri! No, è cosa nostra! Guarda! Non ce l'hanno qui! Non ce l'hanno qui! Non ce l'hanno più grande! Rischiamo la galera ma non ce ne frega niente e se vieni dentro ti facciamo vedere come fa! Ma ecco è quello che va di continuare a fare! Poi farvi legare a tutti i costi! Eh lo sappiamo neanche eh! Buono! 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 Ciao ragazzi, grazie, grazie ragazzi. Se questo è preventivo perché non vadano avanti i lavori.